tu inizia ma inizia ancora non iniziato scusate a far sì ma stai a parlare famo che inizia ma perché ti pensa inizio e faccio il mio video ragazzi credibile non ho detto non ho detto un video particolare con un video credibile e anche oggi ragazzi siamo su una rivisitazione noi noi video che fa tutte le rivisitazioni della five seconds e c'è 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 appena stata allora io con questa domandina proprio ha detto se mi fai qualcosa del fame ti giuro ti fico qualcosa hai cinque secondi aspetta aspetta 5 secondi ai cinque secondi per dirmi tre tipi di marmo dello sri lanka c'è marmo bianco marmo greggio sbagliato non esiste il marmo dello sri lanka vabbè vai non me la fai seria te la faccio seria grazie e hai cinque secondi per dirmi tre giocatori giapponesi nel calcio nakata kagawa okazaki mamma mia grande nakata chi non conosce nakata non ha vissuto il calcio umano proprio grande nakata ai cinque secondi per dirmi tre animali con le strisce c'era la zanzara tigre c'era l'ave la vespa la tigre la tigre la tigre la tigre la tigre come sto a pensare animali no insetti a che cazzo me frega in mente l'ave 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 importante città ti porterà ti porterà ti porterà fuori città fuori città fuori città fuori città vabbè regà cambio e adesso passiamo alle domande fatte da ah ah non abbiamo detto niente regà davide perché non c'è ma è vero è vero siamo arrivati a metà video qui saremo su 4-5 minuti e vi stiamo per fare un annuncio siamo in 3-3 davide stanzi è una bianca perché c'è i soldi solo per chiusare va beh vai alisandru è stato a 10 minuti e sto a pezzarmi tu hai capito hai capito però comunque alisandru stai zitto alisandru hai cinque secondi per dirmi tre libri di tolkien il signore dannelli lo hobbit e il quark andata data data o quello l'ha scritto si è il suo l'omiglio della giornata sarebbe dovuto essere noi si fa più un ragazzo luia israeli si va dai ok paolo come risponde a questa complimenti ai cinque secondi per dirmi 3 leghe metalli poi le sono inglese brasco porco due non me ne vengono l'italiano dio brasco perché brasco che sarebbe un brasco non un rame sarebbe un brasco acciaio un bronzo ottone bronzo porca la matasca change change allora mi devi dire mi devi dire mattia a chi lo sai chiedi ad adesso perché perché si hai cinque secondi per dirmi 3 scarpe nike e rosheran non mi ricordo però alessio ma sicuro la penitenza cori fai la subito visto uno sì io sono fuori sono a farina no se vuoi fare lo spareggio si giusto 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 se vuoi fare lo spareggio vabbè vai allora hai cinque secondi per dirmi 3 album david floyd david floyd cazzo no che se controviene non ti manco di stare in casa spariccio no 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 iniziamo da lui mi sente lì in studio ok ah hai cinque secondi pronto hai cinque secondi per dirmi 3 giochi della naughty dog e crash bandico uncharted e jack and dexter stavo al quinto stavo al quinto jack and dexter jack and dexter l'ha detto si l'hai detto io ho buttato al quinto per cinque hai cinque secondi per dirmi 3 piatti tipici della cucina italiana secondi? carbonara grigia o matriciana vabbè ma sei una merda serio? ma senti ho chiesto i giorni della... ho capito ma ho due vabbè adesso andiamo ma che por di mi dici come hai cinque secondi per dirmi 3 tipi de pasta ma che cazzo dici? hai cinque secondi per dirmi 3 numeri uno due oh cazzo dai questa rega è un pesto dai hai cinque secondi per dirmi 5 secondi 5 secondi per dirmi 3 nazioni che hanno vinto il mondiale negli ultimi venta anni dai la Germania è in Brasile no Brasile no si si sto giocando vuol vedere vuol vedere oh no 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 la Brasile l'ha vinto Brasile oh oh l'ha vinto Brasile c'ero oh e rimaniamo sul tema videogiochi e hai cinque secondi per dirmi 3 protagonisti della saga di Assassin's Creed Ezio Altair e l'altro chi conosce? CONNOR L'ho detto lo l'ho detto lo l'ho detto eh no però 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 è a me la notte variano mi dico eh però si allora si CONNOR c'è allora la chiusura l'accettiamo? allora posso dire che mi sono rotto i coglioni? nel senso tanto le indovinate tutte no allora a questo a questo punto a questo point of situation no? c'è questa cosa a questo punto siamo arrivati al punto in cui tutti andiamo avanti e quindi mi spavano tutto bello sulla faccia ah quanto mi piace il sapore della vittoria vabbè entrata nel naso è bello fresco senti molto fresco non respiro non respiro vabbè raga mazzato sono diventato la barba bianca ragazzi l'audio io faccio quest'audio qui che è molto carina finisce qua la penitenza l'abbiamo presa tutte e due per questo coglione qui si colui questa 5 seconds challenge un po' ve l'avevo detto che era diversa eh ve l'avevo detto finisce qui spero che questo video vi sia piaciuto mi deve mandarla dalla faccia quindi mettete like commentare iscrivetevi iscrivetevi perché ci è andato e niente ragazzi vediamo al prossimo video bella ciao ciao ciao